Lavorerà per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo per la Sicilia. L'ex assessore regionale alla sanità ed ex rettore dell'Università di Palermo, Roberto Lagalla, sfida la sorte e annuncia di voler presentare il suo gruppo di animazione politica Idea Sicilia il prossimo venerdì 17 marzo alle 17.30 alle terrazze di Mondello. Nessuno sembra parli ancora di una candidatura ufficiale, ma il nuovo progetto e la brusca frenata delle primarie di centrodestra sembra sottintendano una corsa politica in atto. Sarà un momento di incontro utile a lanciare nuove idee per la società civile, ha spiegato Lagalla in una nota. Affronteremo tanti temi, dall'agricoltura al sociale, grazie anche alla testimonianza di alcuni amici che racconteranno la loro esperienza. Idea Sicilia sarà un generatore di idee, ha concluso l'ex assessore, alimentato dal confronto e dall'ascolto delle istanze civiche. Obiettivo dell'ex rettore, quello di valorizzare il capitale sociale, creare un sistema internazionale di cooperazione, promuovere l'area mediterranea, migliorare il benessere sociale, elaborare strategie per favorire una cultura sostenibile, valorizzando le eccellenze regionali e migliorandone la competitività e soprattutto impegnandosi per creare nuove opportunità di lavoro attraverso la promozione dell'iniziativa imprenditoriale.